Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany. Oggi mi trovo in questo punto dove sto pochissime volte mentre giro video, ovvero seduta davanti alla libreria perché il mio tavolo è davanti alla libreria, perché volevo fare una sorta di get ready with me ovvero chiacchierare con voi di un tema in particolare che sicuramente avrete letto nel titolo ovvero qualche polemicuccia che è girata negli ultimi tempi tra booktuber e giornalisti e che secondo me, insomma, non è che necessita del mio parere, però io volevo dire ovviamente la mia come sempre e nel frattempo mi preparo, mi trucco e questo è il risultato finale non volevo farvi aprire il video con me a versione fantasma perché capisco che sia un po' inquietante per tutti quindi insomma le certe occhiaie non le vedrete mai nella vostra vita e quindi niente, mi sembrava carino partire direttamente dalla fine spero che insomma mi seguirete in tutto questo delirio che uscirà fuori da questo video insomma, ricominciamo direi allora, questa ovviamente è la mia faccia prima del trucco non vi spaventate, non c'è nulla di strano e comunque niente, adesso intanto inizio a darmi la crema perché non ho nemmeno quella non spaventatevi se le mie occhiaie vi sembrano giganti allora, comunque veniamo a noi sarà un po' difficile parlare e fare cose abbiate pazienza, non ne sono abituata comunque, a parte tutte queste premesse di cosa vi volevo parlare oggi, lo sapete già visto che avete letto il titolo poi le micucce che sono girate ultimamente in due momenti diversi e in due ambiti abbastanza diversi riguardo il ruolo di booktube, degli influencer, dei booktuber in generale dei bookstagrammer e dei blogger contro il giornalismo, in realtà è il contrario cioè giornalismo contro booktuber e bookblogger detto ciò, praticamente faccio un piccolo regresso gli episodi che riguardano questa polemicuccia sono due poi polemicuccia, secondo me adesso ci arriviamo la prima parte è stata sollevata da Matteo Fumagalli mentre era un panel a Fano, se non erro a una conferenza dove si discuteva anche con alcuni giornalisti sul mondo dei libri online e diciamo che, insomma, i giornalisti proprio in maniera non carina tra l'altro si sono messi a commentare tegamini non presente e vabbè però un po' a dire i booktuber hanno l'autorevolezza per parlare di libri perché parlano di libri online poi mi fanno vedere i gatti eccetera eccetera e poi secondo me episodio molto più grave anche se l'articolo voleva avere un tono un po' ironico è quello che riguarda invece il mondo di bookstagram ovvero il mondo dal quale provengo io cioè la piattaforma di Instagram perché sul Guardian l'altro giorno l'altro giorno non so quando pubblicherò questo però diciamo a inizio settimana scorsa quindi si parla di lunedì 30 ottobre lunedì 29 ottobre intanto bevo anche il tè praticamente il Guardian pubblica questo articoletto questo trafiletto dove titola e ancora io sono un po' basita da questo titolo e più non vedo niente ora perché non ho gli occhiali e ora davvero mi metterò gli occhiali e solo per risultare ancora più fastidiosa come il titolo di questo articolo ma ve lo leggo perché non vorrei anche sbagliare poi dopo mi attaccano questo articolo inizia già così e quindi già è una dichiarazione di guerra non hai tempo per leggere libri? basta che posi con loro su Instagram e già qua l'intento è abbastanza chiaro e praticamente in tutto questo articolo si ridicolizza l'estetica di bookstagram e anche il fatto che soprattutto si dice che la maggioranza di quelli che fanno foto ai libri su Instagram lo fanno senza leggerli ma solo e unicamente per mostrarli e poi anche lì cazzo ce ne frega vabbè al di là di quello la cosa che mi dispiace in generale dell'articolo è che proprio parte da dei presupposti che secondo me sono molto sbagliati ma poi ci arriviamo e praticamente la tesi di questo articolo è che i libri hanno iniziato ad essere cool solo quando nella vita reale hanno smesso di essere cool e quindi per risultare un po' alternativelli quelli intellettualoide che piace tanto al mondo estetico dell'Instagram si è un po' arrivati a fare questo tipo di foto ma non perché i libri effettivamente vengono letti ma solo perché è figo dimostrare quanto sia intellettuali che cioè ma io dico sempre sta frase ma se io volevo fare la figa se io volevo fare i soldi chiunque come me si sarebbe messo a parlare di libri cioè da quando da quando mai i libri pagano cioè i libri non hanno mai pagato mai nella storia i libri non hanno mai reso persone ricche tranne J.K. Rowling e pochi altri vabbè e ok è il primo punto che ci arriveremo alla fine della fiera poi prima di arrivare ovviamente all'altra questione questo fatto di dover denigrare chi parla di libri online soprattutto dal punto di vista giornalistico dicendo che questi non leggono non sono veri lettori rimarcando moltissimo questo aspetto tra l'altro mi dovrei anche preparare effettivamente voi ci avete anche ragione cioè no a voi non ve ne fregherà niente ovviamente ma a me sì questo dire che le persone non leggono oppure che leggono i libri sbagliati perché poi c'è sempre anche quella componente lì che a me fa morire cioè partiamo da un presupposto primo significa che probabilmente la comunità online che legge libri e parla di libri non è una comunità che questi giornalisti hanno esplorato hanno cercato di capire e di conoscere perché? io quest'anno ho letto più di 50 libri già ok? e penso spero di leggerne almeno un'altra decina da quali a fine dell'anno non ho grandi programmi cioè ho grandi programmi ma è meglio che non li dico perché come tutte le cose porta una gran sfiga la TBR per me le TBR portano sfiga cioè sono tutti libri che poi non leggi o che leggi dopo mesi detto ciò però io sfido a conoscere tante persone nella vita in real life che ti dicono che hanno letto più di 50 libri cioè io ne conosco pochissimi ne conosco davvero pochissimi e se non 50 anche 30 20 libri che vuol dire almeno circa 2 al mese eh non li hanno letti in tanti eh non è che solo perché se ne parla sul web così io tutte le persone che conosco che quest'anno avranno letto più di 50 libri sono tutte persone online sono tutte persone che ho conosciuto via Instagram che ho conosciuto su YouTube eccetera eccetera che leggono costantemente continuamente e nella comunità online proprio perché c'è così tanta varietà c'è gente che ha letto Kafka c'è gente che avrà letto solo Young Adult e Fantasy c'è gente che avrà letto un po' di uno un po' dell'altro c'è gente che ha letto Saggistica c'è gente che ha letto fumetti c'è gente che ha letto ogni genere letterario e non è che se sei online automaticamente non leggi autori importanti perché anche lì bisogna considerare che per certi giornalisti leggere cosucce di genere ancora una volta viene considerato di poco valore viene considerato vabbè come se non avessi letto e comunque anche se io quest'anno non ho letto Kafka l'ho già letto alle superiori ok quindi a me di leggere Kafka di nuovo e parlare di Kafka per l'ennesima volta a me personalmente Tiffany non me ne frego ne merita Fava ci sono altri booktuber che invece parlano proprio di questi autori e quindi è giusto che loro abbiano questo spazio dove poterlo fare però diciamo venendo anche all'altra parte della polemica che si è scatenata cioè questo è l'ennesimo attacco quello del Guardian alla comunità di lettori online l'altro proviene ovviamente da un ambiente sicuramente meno prestigioso almeno per me io sono una grande lettrice del Guardian e ci sono rimasta malissimo per questo articolo perché non me lo aspettavo una pochezza del genere l'altro proviene da un ambiente italiano che io ovviamente non so come dire ma mi aspetto tutto cioè dall'Italia io questi atteggiamenti me li aspetto mi aspetto che ci sia una visione molto elittaria e molto divisiva di chi può parlare di lettura e di chi non può parlare di lettura e ovviamente giù nell'info box io vi linko il video di Matteo dove parla della sua esperienza e del suo punto di vista ovviamente visto che lui l'ha vissuto in prima persona però come lui l'ha vissuto in prima persona penso che ci siano tanti altri casi tanti altri ambiti dove questa cosa non emerge ma è presentissima e anzi probabilmente quello forse era anche velatamente trattenuta perché erano in ambienti dove c'era effettivamente un booktuber presente comunque alla fine della fiera il discorso della giornalista che parlava con Matteo era che i booktuber non hanno l'autorità per parlare di libri perché mentre parlano di libri e poi non è detto che lo possano e lo sappiano fare alternano con temi frivoli come far vedere il gatto far vedere altre cose a me cosa me ne frega della tua cameretta quando poi mi parli dei libri cioè che valore ha questa cosa qui e la domanda è sempre quella i booktuber hanno l'autorevolezza per parlare di libri e non solo i booktuber ovviamente tutti quelli che lo fanno sfruttando la piattaforma online quindi sto parlando anche di instagram i blog diciamo qualsiasi mezzo che non sia tradizionale ma sfrutti ovviamente il web personalmente dai microfoni di radio misfiction vi posso dire che io questa autorevolezza non ce l'ho mi interessa averla no e non me ne frega niente di avere questa autorevolezza passo e chiudo a parte ovviamente le sciocchezze che sto dicendo in questo momento però c'è un discorso molto serio di fondo adesso però continuo anche a prepararmi se no non uscirò mai più allora siamo seri parliamo di questa cosa seriamente il booktuber cioè chi parla di libri online lo fa sfruttando una piattaforma che non ha fatto dell'autorevolezza la sua maggiore caratteristica chiunque che abbia un computer e una connessione a internet può fare video e parlare di libri su youtube chiunque abbia un come dire una una fotocam un cellulare con una fotocamera può fare il bookstagram e ripostare foto di libri su instagram chiunque abbia un cellulare o un computer che abbiano una tastiera e ovviamente una connessione a internet può scrivere dei libri sui propri spazi sui propri blog sulle piattaforme che trova più congeniali e per farlo l'autorevolezza non è una caratteristica che viene considerata ma quello che passa ovviamente in maniera più prepotente non è l'autorevolezza ma è la passione cioè chi si mette a parlare di libri online non lo fa perché cerca autorevolezza o almeno non è sicuramente nella maggior parte dei casi il primo traguardo o la prima aspirazione chi lo fa lo fa perché innanzitutto ha una passione perché parlare di libri è difficile è difficile confrontarsi e trovare persone con cui farlo nella vita reale quindi trovi nell'internet uno spazio dove conosci persone che come te hanno questa grande passione e vogliono condividerla ma soprattutto dai voce a tutti quelli che probabilmente sono più timidi sono magari in difficoltà perché non trovano persone con le quali condividere delle opinioni delle specie trovi una community che è come te cioè sono tutte persone sia i creators sia chi fa le foto sia chi scrive gli articoli sia gli utenti che usufruiscono di questi contenuti interessati a parlare di questa cosa scusatemi non riesco a fare le sopracciglia mentre parlo infatti sarà la stessa tragedia per l'eyeliner ma un problema alla volta e praticamente quando noi ci troviamo a dover parlare di libri online la cosa che mi fa morire è che io non lo faccio perché voglio avere un'autorevolezza nel farlo lo faccio perché evidentemente quello che leggo non ho altre persone con cui confrontarmi con le quali parlarmi eccetera mi arricchisce mi diverte mi intrattiene mi occupa una gran parte della mia vita il fatto di parlare di libri online perché non ho altro spazio nel quale farlo ma non l'ho fatto cioè non l'ho mai fatto partendo da una non so un'aspirazione di autorevolezza cioè io non lo faccio perché voglio che gli altri pensino che il mio punto di vista sia migliore o più di valore rispetto ad altri che il mio set ha uno standard che è un po' quello che in teoria è il ruolo del giornalismo e soprattutto non si considera che i giornalisti e i booktuber chiamo sempre booktuber ma pensatelo più come chiunque parli di libri online chiunque sfrutti new media chiamiamoli new media quindi podcast anche volendo eccetera probabilmente non viene considerata anche una cosa non da poco spesso non sempre ma spesso ci si rivolge a due target che non coincidono ovvero quando io guardo un po' le mie statistiche degli iscritti e del pubblico che mi seguo in line è un pubblico abbastanza giovane ma non giovanissimo cioè io non ad esempio non ho grandissimi iscritti sotto i 18 anni ma ho tantissimi iscritti che hanno ad esempio la mia età quindi si tratta del target 25-35 quindi non stiamo parlando di ragazzini giovanissimi quindi è vero che da un lato sicuramente poi ho tanti iscritti tra i 18 e i 25 tante persone che mi seguono che sono abbastanza giovani molto giovani e quindi probabilmente sono anche tutte persone che non dico che non leggano quotidiani non leggano riviste del settore però non sempre in gran parte coincidono i molto giovani poi soprattutto non hanno questa abitudine nel leggere quotidiani e stampa di settore perché probabilmente la stampa di settore ignora i loro gusti ignora quello che loro leggono effettivamente sempre bollandoli come qualcosa di brutto qualcosa che non ha senso e questo questo snobismo loro lo hanno percepito gli è passato dentro e secondo me è anche il motivo per il quale sempre si sentono in dovere di difendere il fantasy ad esempio o la narrativa di genere e con questo non voglio dire che il giornalismo non abbia tutte le motivazioni per massacrare alcuni volumi perché sicuramente ne ha più che cioè più che ogni singola motivazione ma il fatto che l'abbia fatto per anni soprattutto attaccando anche i lettori e non capendo perché abbiano bisogno di quel tipo di narrativa lì secondo me un po' è contato e anche quelli che ora magari hanno la mia età che si sono sentiti dire per anni che quella che era roba che non dovevano leggere poi si sono anche rotti le scatole magari quelle recensioni lì non le vanno a leggere se sono fatte da autorevoli giornalisti con questo ovviamente non voglio dire che tutti non leggono quotidiani anzi secondo me è proprio tra i lettori soprattutto tra i lettori che hanno una grande passione per i libri che la condividono online in tantissimi tuttora leggono gli inserti dei quotidiani gli speciali leggono riviste di settore è ovvio che la rivista di settore parlerà di alcune cose delle quali prenderanno spunto ma ciò non è che il problema secondo me in generale è che non è che un mondo esclude l'altro ma un mondo parla solo a determinate persone mentre invece penso che booktube in generale non abbia né l'interesse né la presunzione di poter parlare solo a una determinata nicchia anzi su booktube ovviamente ripeto booktube instagram eccetera c'è la possibilità per tutti di trovare uno spazio c'è la possibilità per tutti di trovare il booktuber che parla dei libri che ami c'è la possibilità di condividere quelle che sono le tue letture le tue passioni perché qualcuno cercava proprio quello qualcuno sta cercando quei tipi di contenuti che magari da altre parti non trova e un po' questo atteggiamento da parte dei giornalisti è quello che io già vi avevo sottolineato nel video sugli ambienti accademici cioè sembra quasi che questa divisione che tra l'altro ovviamente il mondo online non crea e non è interessato a creare perché fondamentalmente chi sta sul web per parlare dei libri non interessa questo tipo di atteggiamento questo divisionismo dal punto di vista dei lettori o almeno nella maggioranza sicuramente non è così ma questo divisionismo viene creato soprattutto dai giornalisti probabilmente da un lato si sente la difficoltà nel raggiungere i lettori e infatti siamo sempre di meno perché probabilmente il giornalismo ma non solo il giornalismo anche l'ambiente accademico non ha dato abbastanza velocemente ai lettori le risposte che cercavano non ha dato degli strumenti che parlavano a loro in quel momento che avrebbero significato sicuramente determinate cose probabilmente non li ha capiti non li ha interpretati e non si è mosso abbastanza velocemente e soprattutto ha smesso di ascoltarli ha smesso in tantissimi casi di comunicare con loro è diventato un qualcosa di elitare è diventato un qualcosa che non è interessata alla loro opinione alla loro visione è più interessata da un lato sicuramente quello che succede sempre a compiacere se stessa perché il giornalismo e gli ambienti accademici godono molto di questo di questa pecca di vanità posso dire non in tutti i casi ovviamente generalizzo ed estremizzo sempre ma è per fare arrivare dunque la mia posizione il mondo del web dall'altro lato non ha alcuna autorevolezza o almeno non ha quello scopo di avere autorevolezza poi ci sono magari booktuber che ce l'hanno però è parte integrante del bacino dell'utenza che legge quindi è parte integrante del mondo dei lettori e ovviamente dialoga continuamente con tutti gli altri lettori cosa che ovviamente il mondo del giornalismo non fa più non è interessato a capire qualcosa dall'altro lato non ha uno scambio diretto e forse la differenza tra il booktuber e il giornalismo il giornalista cioè la differenza più grande è che mentre il giornalista ha un ruolo definito si occupa di determinate questioni si occupa di certe cose di certi ambiti è una professione e quindi fa tot cose il booktuber e l'influencer chiamiamolo influencer forse non ha una vera e propria definizione l'influencer può fare tantissime cose differenti si occupa di tantissimi ambiti e mostra allo stesso tempo si ha qualche contenuto che riguarda i libri cioè parla di libri prevalentemente ma magari lo fa e poi ti fa vedere il gatto poi ti parla di dove è stato del viaggio che ha fatto se è stato male o no la mattina cioè mescola una parte di vita e sfera personale di esperienze personali a questa condivisione di contenuti che riguardano la lettura e il booktuber influenza direttamente il mercato come fa anche il giornalista sicuramente ma il booktuber lo fa in una maniera più diretta cioè non forse è quella cosa che noi booktuber e in generale persone che parlano sul web proprio il motivo per quale forse l'autorevolezza non ce ne frega assolutamente nulla che ci sentiamo questa libertà di poter parlare di alcuni contenuti proprio perché non dobbiamo per forza risultare autorevoli proprio perché non abbiamo questa spada di damocle che pende sulle nostre teste e a me questo aspetto piace molto perché io non pretendo di avere autorevolezza io pretendo proprio di avere uno spazio nel quale condividere la mia opinione il mio punto di vista cosa che non è sempre apprezzata questo è un altro paio di maniche è un'altra polemica e ce ne parleremo poi un'altra volta ma non è quello lo scopo di booktube non è avere autorevolezza al nostro scopo l'autorevolezza ce la può avere il giornalista e anzi pensate a tutti quei giornalisti che non ce l'hanno ma comunque ci tengono a dire la loro su cose che non c'entrano nulla e il risultato che hanno i booktuber con questa vicinanza col pubblico è anche quello di influenzare il mercato e continuare a sottovalutare questo aspetto rende secondo me i giornalisti anche un po' sciocchi e un po' naiv perché il problema fondamentale è proprio questa mancanza di conoscenza una sorta di ignoranza che porta anche ad avere un po' paura e timore di questo mondo dall'altra parte dello schermo adesso mi fermo perché è un discorso serio quello che voglio fare ovvero che vi faccio un'analogia quando io ho iniziato a lavorare io lavoro in comunicazione e in pubblicità prevalentemente quando io ho iniziato a lavorare più o meno dieci anni fa io non vengo da studi grafici io vengo da tutt'altro quindi non avevo le basi della grafica diciamo avevo basi di tutt'altro tipo e in più da sempre ho fatto la fotografa e quando io dicevo voglio buttarmi sul web perché io voglio fare le cose per il web mi ricordo le occhiate un po' perplesse di tutti che dicevamo è un'aliena questa è pazza non ha capito niente andando avanti ma non mi sto parlando di solo dieci anni fa sto parlando anche di cinque anni fa sto parlando di tre anni fa cioè sto parlando di dimensioni che purtroppo sempre più si accorciavano e sempre c'era questa distanza questo respingimento del nuovo quando io mi ricordo che quando io parlavo di creare contenuti per il web fare foto per il web sviluppare dei concetti che vivono sul web o mi ridevano dietro oppure dicevo no ma vabbè ma tanto non è importante chi se ne frega il web segue la stampa e tutto funzionerà così per sé cioè c'era proprio questa mentalità ed era molto ancorata perché chi è nato nel mondo della stampa chiaramente il web l'ha visto da sempre come non tutti ovviamente c'è chi l'ha visto come un'opportunità ma la maggior parte l'hanno visto ovviamente come il male perché attaccava il loro territorio no e secondo voi dopo dieci anni chi ha ragione chi ha avuto ragione cioè chi è che comunque ha trovato la propria professionalità e ha saputo sfruttare queste cose ovviamente non dico di avere conquistato grandi cose però non ho avuto paura di abbracciare questo mondo c'è chi invece ce l'ha avuto e che ora fatica a trovare lavoro o a tenersi un lavoro perché la stampa via via si sta un po' ridimensionando ovviamente l'impatto della stampa e la pubblicità tradizionale ed è esattamente la stessa cosa che sta accadendo per il mondo degli influencer di youtube eccetera c'è questa sorta di paura di demonizzazione di qualcosa che soprattutto non si conosce non si capiscono e non si conoscono i meccanismi del web e per questo li si ostracizza per questo li si sminuisce si denigrano vengono ridotti ai gattini e queste cose stupide no cioè secondo me si fanno diversi errori in tutto ciò ovviamente gli errori stanno da una parte e dall'altra secondo me questo divisionismo forzato è solo tossico mentre invece collaborare trovare dei punti d'incontro trovare dei punti in comune sarebbe la cosa ovviamente più meravigliosa però questo vuol dire vivere nel mondo delle fate vado anche avanti perché qua sono più scura che della comunque il succo in tutto ciò che secondo me è questo divisionismo tra giornalismo e mondo web nuovi media porta a due errori fondamentali il primo a far passare l'idea che magari non pensa no che pensano ve lo dico io che la cultura sia un qualcosa di elitario cioè che la cultura non appartenga a tutti non tutti possono parlare di libri perché non tutti ne hanno l'autorità ma sotto intende che probabilmente tu non puoi parlarne perché non fai parte di questa elite che ci siamo costruiti e soprattutto sembra quasi che la cultura quella provata con lo stampino vada provata prima e diffusa solo tramite i mezzi del ministero della magia cioè sono ovviamente capita che anche voi che è un po' fuori il tempo massimo questa visione del mondo della cultura la cultura appartiene a quante più persone possibili e ovviamente vanno dati gli strumenti a quante più persone possibili per accedere agli strumenti culturali se no poi ci ritroviamo alla situazione di oggi e non sto ridendo per questa cosa serissima cioè questo comportamento questo atteggiamento adesso poso anche il pennello perché mi sto arrabbiando continuo a sottolineare quanto non tutti possono accedere alla cultura la cultura è solo per pochi e solo in pochi ne possono parlare solo in pochi possono leggere e già siamo in quattro gatti a parlare di libri già siamo in quattro gatti a leggere sempre gattini perché ormai l'esempio dei gattini per me è stato molto calzante mi ha fatto arrabbiare tantissimo già siamo in pochi a leggere e voi volete togliere a chi promuove la lettura a chi fa vendere libri perché ragazzi parlare di libri online significa anche cercare di rianimare questo morto vivente che cammina che è il mercato editoriale e come vi dicevo l'altro errore secondo me grave è quello di continuare a sminuire un mondo che fondamentalmente non si conosce perché l'errore fondamentale sta qui cioè il mondo dei booktuber tantissimi giornalisti non lo conoscono non l'hanno approfondito non l'hanno studiato tra l'altro è grave perché il ruolo del giornalista è proprio andare ad indagare alcuni fenomeni alcune cose soprattutto se si tratta di costume sociale che quindi fa parte anche della sfera del libro e del mondo della della rece received come si dice in italiano nel mondo della ricezione del libro e quando questi giornalisti sminuiscono si ha le capacità di chi parla di libri online ma soprattutto anche l'impatto che ha questo mezzo la sua potenza le sue potenzialità ovviamente tutto ciò che ci può ruotare attorno secondo me purtroppo ricade un po' nella categoria del non conosco mi spaventa quindi lo sminuisco questo è l'errore poi fondamentale che fanno perché costringe i giornalisti vecchio stampo soprattutto quelli che non vogliono e non hanno mai avuto a che fare con il web a uscire allo scoperto perché sono costretti innanzitutto a cercare di capire e comprendere il mezzo che è un mezzo che denigrano e che sminuiscono ma per ignoranza fondamentalmente poi magari anche perché non mi piace io lo posso capire però quello è un gusto personale però prima o poi ci dovrete avere a che fare con questo mezzo e soprattutto un mezzo che non li ha visti brillare perché hanno brillato in altri campi hanno brillato in un ambito abbastanza diverso e quindi è come un nemico che va combattuto è un nemico che va tenuto alle porte e probabilmente mi viene da dire che in realtà quello che emerge da tutta questa storia è che innanzitutto il giornalismo ha bisogno di ridefinire il proprio ruolo e se stesso siamo in un'epoca dove i giornalisti vengono attaccati e io li difendo continuamente questa cosa mi dà fastidio da morire infatti e invece che cercare di capire cercare di interpretare il mezzo sempre di più mi sembra che il giornalismo cerchi di creare un fortino attorno a sé e limitare i danni che comunque è un po' come il Titanic che va verso l'iceberg puoi limitare i danni ma l'iceberg è lì non lo puoi evitare e questa cosa qui secondo me nuoce più a loro che ai booktuber perché i booktuber non hanno grandi pretese o almeno non cercano di risultare soprattutto autorevoli quando fanno booktube se cercassero autorevolezza probabilmente la cercherebbero da altre parti però comunque sicuramente ci sono booktuber e non posso parlare per tutte le esperienze che sicuramente hanno le competenze per parlare in maniera brillante di libri sul web penso a tanti che conosco secondo me tra loro e un giornalista non so vabbè comunque e quindi secondo me in generale probabilmente il mondo del giornalismo deve capire innanzitutto a che punto siamo se si vuole adattare i cambiamenti che sono in corso non ce la farò mai a darmi l'eyeliner quindi un secondo ok eyeliner fatto detto ciò io sono davvero fermamente convinta che il giornalismo debba debba un po' rivalutare qual è il proprio ruolo all'interno della della storia all'interno di questo momento storico invece che ostracizzare chi insomma secondo me li supporta li legge viene incoraggiato a leggere anche da tanti giornalisti probabilmente è quello che non stanno cogliendo stanno semplicemente attendendo diciamo l'arrivo dell'iceberg in questo modo e non capire questo fenomeno si fica un po' a tradire forse anche le premesse del giornalismo stesso che ha e deve mantenere il proprio ruolo ma che non deve ostacolare nuove professioni che si stanno creando nuovi spazi che stanno che stanno dando voce alla letteratura ai libri all'editoria non è solo il giornalista che muove il mondo editoriale ora anzi sicuramente ora il mondo di booktube è un mondo molto importante e che va tenuto in considerazione quindi sicuramente entrambe le polemicucce che sono nate sia a Fano che quella del Guardian suonano quasi a meno a me suonano veramente molto fuori tempo massimo come vi dicevo prima io l'ho visto nel mio ambito e ho visto come attaccarsi e combattere il web abbia semplicemente rallentato una caduta definitiva perché non puoi fermare un mezzo che è così potente che unisce così tante persone e soprattutto non puoi sminuire neanche i lettori solo perché leggono certe cose promosse dai booktuber vuol dire che tu ti stai già ritagliando vuol dire che tu stai già escludendo una serie infinita di lettori perché li stai sminuendo e che quindi non leggeranno non ti seguiranno non ti capiranno non parleranno il tuo linguaggio perché si sentiranno anche traditi da te che li hai presi in giro e quindi niente ora mi do l'illuminante poi effettivamente ci sono niente ho dato l'illuminante quindi ci sono ora torno anche a vedere mettendomi gli occhiali e niente io spero che questo video abbia avuto un senso nonostante il delire nonostante fosse impegnato io non posso fare due cose contemporaneamente o almeno non questo tipo di cose spero che comunque il video vi sia risultato interessante vorrei sapere qual è la vostra opinione qual è il vostro punto di vista cosa ne pensate se pensate che siano due mondi che devono continuare a rimanere separati e quasi in guerra o se forse anche secondo voi è il caso di trovare un punto d'accordo un punto in comune quali possono essere le papabili strade cosa che io trovo un po' difficile perché mi sembra sempre che ci sia molto straccizzazione dall'altro lato però vorrei sempre sperare che non sia così e niente io vi ringrazio anche per oggi per essere stati in mia compagnia e direi che ci vediamo al prossimo video ciao ciao